Quando dicevo abbiamo dei funzionari e dei dirigenti di primissimo livello oggi lo dimostrano, tu richiami solo questa parte del progetto Qualità dell'Abitare che ci ha visto a Todi insieme al Comune di Trapani e abbiamo anche il piacere di poter dire che la firma sul progetto appartiene a un nostro funzionario l'ingegnere Marco Imprima, ma non abbiamo seguito solo il progetto Qualità dell'Abitare del rione Cappuccinelli di Trapani che darà nuova linfa, un nuovo volto a questo importante quartiere trapanese ma anche ci vede protagonisti su Marsala, su un progetto di pari importanza sempre con il nostro ufficio tecnico in primo piano. La parola d'ordine è doppia operatività ma anche bellezza Questo è il punto focale della mia azione i nostri progetti da un po' di tempo a questa parte sono marcati da questo segnale la bellezza e la qualità dell'abitare non può essere disgiunta dalla bellezza ciascuno di noi pretende, vuole vivere in luoghi belli noi dobbiamo innanzitutto garantire la funzionalità ma in seconda battuta se ci riusciamo deve essere assolutamente necessario garantire la bellezza dei luoghi perché in un luogo bello si vive meglio Lavoriamo per costruire una città grande c'è una differenza tra grande città come estensione feudale e la città grande la città grande qualifica i servizi, qualità dell'abitare un progetto da 15 milioni di euro che d'urgenza stamattina l'ha giunta a prova devo ringraziare per la collaborazione dell'IACP partecipiamo a misure di finanziamento straordinario per fare in modo tale che tutti i cittadini ieri vicini, oggi trapanesi, possano essere considerati cittadini di serie A dunque non quartieri ghetto, non quartieri dormitorio ma quartieri dove è bello abitare si interverrà sulle case delle persone, sulle case dell'OIACP si interverrà anche sulla qualificazione dei servizi esterni su opere di urbanizzazione, servizi diversi siamo sulla zona del lungomare, noi vogliamo valorizzarlo tant'è che sposteremo il CCR, quello dei rifiuti, in zona industriale ecco, passiamo dalle parole ai fatti adesso iniziamo a declinare azioni propositive che nell'arco degli anni cambieranno il volto di questa città e anche dei quartieri popolari tutti i trapanesi sono cittadini di serie A lo sono tanto quelli delle frazioni quanto quelli dei quartieri popolari